Una Suzuki Swift dell'Alma Racing Con noi ci sono Lorenzo Livieri e Lucrezia Biotti Pronti anche loro? Sì, siamo felicissimi di essere qui È il nostro primo Valle d'Aosta Non vediamo l'ora di iniziare queste bellissime prove Dove venite voi? A Puiterno, il Basso Piemonte Ah, bene, bene Mi fa piacere due giovani che scelgono la valle Voi avete in programma la Coppa Relli di Zona quest'anno Oppure una gara così? Sì, chiudiamo il CRZ E poi andremo a fare due settimane Quindi usiamo anche un po' per allenarci Perfetto, bocca al lupo per questa gara Ma poi del resto ne parleremo questa sera Lorenzo Olivieri e Lucrezia Biotti Hanno questa Suzuki Swift dell'Alma Racing E il Viac in questo istante 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 Il Viac in questo istante Quindi avremo a parere un'autorna Grazie a tutti. Suzuki Swift per un altro equipaggio, Olivieri e Biotti, numero 161. Vincitore di classe, forza ragazzi, c'è la macchina numero 161, l'applauso! Lo spumante non c'è, così ci prepariamo Max, siamo sereni. No, abbiamo già credito due o tre volte, però abbiamo vinto un aperitivo Max. La storia è stata facile. Eh no, bisogna arrivare, bisogna arrivare, bisogna arrivare. Come dicevo stamattina sono gli assenti del vero e torno. No, sì, comunque siamo andati bene, ci sono divertiti, prove bellissime, abbiamo messo a posto l'assetto, inizia il trofeo. Tutto a posto. Benone! Ragazzi, complimenti, Coppa di vincitore di classe. Salutiamo anche Olivieri e Biotti. Paolo Burgazzoli, Giorgia Pertosa, eccoli qui altri vincitori di classe, complimenti ragazzi!